Per caso qualcuno ha detto unboxing? Bene, bene, allora con calma, con calma E belli a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video E che video ragazzi, e che video Oggi ragazzi siamo qui nuovamente con un altro unboxing Ma questa volta un unboxing veramente speciale Questo perché Asus ROG ha desito di mandarmi queste fantastiche periferiche di ultimissima generazione Sono completamente nuove E mi ha dato appunto la possibilità di unboxarle e dare un feedback qui insieme a voi A queste nuovissime periferiche che ragazzi vi giuro c'è solo a vederle e sto già impazzendo Ho dovuto resistere e finalmente sono qui per registrare questo video Intanto inizio col dire da subito che ringrazio Asus ROG per questa possibilità Prima di iniziare con l'unboxing intanto vi invito a lasciare subito un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanellina E inoltre ragazzi volevo dire che se dovesse interessarvi una di queste periferiche Io vi lascio solo per voi qui sotto in descrizione un link Che vi riporta al sito per acquistarle E se utilizzate il codice sconto Croatomist25 Avrete appunto uno sconto del 25% ragazzi 25% è tantissimo Trovate tutto comunque in descrizione Ma ora ragazzi direi di non perderci in chiacchiere E andiamo ad unboxare questi fantastici prodotti Mamma mia tutti da me Cambiamo subito scena Bene ragazzi eccoci qua con il nostro primo unboxing di oggi Iniziamo con le ROG Fusion 2500 Direi di aprire subito la confezione Eeeella Eccole qui Ecco qua le nostre cuffiettine Andiamo ad aprire qui Ok qui ci saranno sicuramente i padiglioni di ricambio Al 100% Eccoli qua infatti abbiamo i padiglioni di ricambio Allora questi intanto possiamo postarli Abbiamo qui il cavo delle Fusion 2500 Che adesso andiamo a connettere E vediamo subito l'effetto RGB E voilà Eccole qua ragazzi Sono veramente splendide Sono spettacolari Cioè questo penso sia uno degli effetti RGB di ROG Forse è più bello in assoluto Cioè sono veramente fenomenali E sono leggerissime ragazzi Questo è veramente un punto a favore Per queste cuffie Già da subito praticamente Perché comunque sapete che il comfort Mentre che giochiamo Mentre streamiamo è comunque fondamentale I padiglioni come vedete sono super super morbidi Anche questo è un punto super a favore Ma ora vi vado a dire un pochino Le specifiche tecniche di queste fantastiche cuffie Bene ragazzi inizio col dire Queste cuffie hanno il suono 7.1 virtual surround Che è appunto avanzato E ottimizza l'audio in qualsiasi tipo di gioco E rende proprio l'audio Veramente ragazzi super super realistico E questa è una cosa molto molto importante Per noi che siamo comunque dei videogiocatori Le Fusion 2500 hanno anche L'esclusiva tecnologia Che si chiama appunto ROG Hypergrounding Per appunto ottenere E farci avere un suono super reale E veramente un suono puro Riusciamo veramente a percepire Ogni tipo di passo All'interno dei videogiochi In cui stiamo giocando Queste cuffie appunto come ho detto Sono leggerissime Infatti pesano solamente 310 grammi E ora la domanda vostra sarà Ma Martina Ma il microfono queste cuffie Non ce l'hanno Eh sì ragazzi Certo che queste cuffie hanno il microfono Però non hanno il solito Diciamo microfono a braccio Al contrario questa cuffia Utilizza dei microfoni nascosti High beam performing Per fornire una comunicazione vocale Di altissima qualità Nel comfort e nello stile Quindi noi praticamente Non avremo più i microfoni Qui su braccio visibili Ma avremo una cuffia Super pulita Super clean Senza appunto Il microfono esterno Ma tramite appunto Queste nuove tecnologie Che sono tanta tanta roba Per attivare il 7.1 Virtual surround Ci basterà appunto Fare una leggera pressione Su questo pulsante Come vedete scritto Ci sta appunto 7.1 Che si legge bene Qua possiamo mutare Smutare il nostro microfono In tutta tranquillità E qui possiamo appunto Aumentare Il volume di gioco Ma una cosa Di queste cuffie Molto particolare È appunto Il controllo del volume Abbiamo la possibilità Di controllare anche L'audio del microfono Quindi tu puoi abbassare L'audio del microfono A aumentare l'audio del game Quindi è qualcosa Di veramente Super super comodo Quindi sì ragazzi Queste sono come si presentano Le ROG Fusion 2 500 Sono veramente spettacolari Non vedo l'ora di vedere Le prossime cuffie Infatti ora passiamo Sulle ROG Delta S Bene ragazzi Ora siamo qui invece Con le Asus ROG Delta S Andiamo subito A spacchettarle Alziamo qui E Welcome to the litre Public of Gamers Community Eccole qui Le ROG Delta S Ma quanto sono morbidi No ragazzi C'è fuori di testa Sono morbidissimi i padiglioni Andiamo ora un attimo Ad estrarre Dalla confezione Anche qui siamo appunto Con il nostro cavetto E qui credo ragazzi Che come le Fusion 2 Ci siano anche Magari I padiglioni Di ricambio E infatti Ecco qua Vedete abbiamo anche Un paio di Padiglioni di ricambio Eccoci qua ragazzi Queste sono le Delta S Ovviamente come design Sempre veramente Troppo troppo belle Queste hanno peraltro Il padiglione A forma di D Quindi sono proprio Super ergonomiche Fatte apposta Proprio per Proprio per le orecchie Quindi sono di una comodità Veramente unica E come potete vedere Anche qui I padiglioni Sono veramente Super 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 morbidi Ma adesso Andiamole a Plaggare Con il nostro cavetto E vediamo un attimino L'RGB E vi spiego Alcune specifiche tecniche Di queste fantastiche cuffie Ecco qua ragazzi Le nostre ROG Delta S Questa come si presenta All'RGB Devo dire Assolutamente Spaziale Ma intanto ragazzi Andiamo E vediamo insieme Le specifiche tecniche Di queste fantastiche cuffie Che sono appunto Le ROG Delta S Intanto iniziamo Col dire che sono Delle cuffie Leggerissime Infatti ragazzi Sono veramente Una piuma Praticamente Pesano esattamente 300 grammi Infatti sono molto 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 leggere E hanno appunto Delle tecnologie Ad alta risoluzione ESS 9281 Con il Quad DAC Che permette appunto Grazie alla sua tecnologia MQA Ad offrire proprio Un audio impeccabile Dettagliato E super super fedele Qui ragazzi Nella confezione Ovviamente Abbiamo il nostro Microfonino Che si va ad attaccare Esattamente In questa porta Come potete vedere Molto semplice In installazione E ovviamente Ragazzi Questo microfono Permette appunto Una comunicazione Vocale veramente cristallina Appunto Durante il gioco Grazie ovviamente Al suo Eino Scancelling Quindi come microfono Ragazzi e voci Anche qui abbiamo Una qualità Estremamente al top Quindi queste invece Come si presentano Le cuffie Ve le faccio vedere Appunto in questo modo Sono veramente Veramente belle ragazzi Quindi a differenza Delle Fusion 2 Qui appunto abbiamo Il microfono Ovviamente che Qui abbraccio Quindi si vede Però dovrebbe avere Ragazzi una qualità Veramente spaventosa Bene ragazzi Ora siamo Su un pezzo Completamente Fortissimo La ROG Claymore 2 La TKL Possiamo utilizzarla Sia in versione TKL Che anche in versione Con appunto Tutti i tasti Ma la particolarità Più importante È che questa volta Asus ROG Ha fatto uscire La tastiera Con i switch Ottici rossi Quindi ragazzi Un tempo di risposta Veramente immediato Andiamola subito ad aprire Perché sono curiosa Di vedere questa tastiera Sono super curiosa ragazzi Anche perché io sono Estremamente addicted Dalle tastiere di Asus Come sapete Io ne utilizzo Già una Che è appunto La Falcon Quindi Sono veramente curiosa Andiamo ad aprirla E È bellissimo Tipo uno sticker Abbiamo qui il nostro Librettino Che momentanamente Spostiamo Qua abbiamo Dei cavetti Che momentanamente Mettiamo qua Per evitare di perderli E qui ragazzi Sentite Sentite Qua abbiamo la nostra tastiera Usciamola fuori Dalla nostra confezione Prendiamo anche questa parte qui Anche se noi non la utilizziamo Quando giochiamo Ma per farvela comunque vedere L'andiamo ugualmente a provare E qui ragazzi Abbiamo il nostro cavetto Quindi prendiamo un attimo Con la confezione Della clamor E spostiamola Andiamo Usciamola fuori Da qui No raga Bellissima No ragazzi Fuori di testa Fuori di testa No 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 ragazzi Fuori di testa Quindi qui abbiamo la parte Si credo Ah si dove Si deve staccare Tipo questa parte di qua Per fare in modo appunto Che poi si attacchi Di qua Quindi Basterà appunto Infilarlo da sopra E poi Tac Ecco qui Quindi possiamo avere la tastiera Appunto O completa Oppure versione TKL Ovviamente Ora lo lasciamo Così andiamo a vedere L'RGB Quindi prendiamo un attimo Il cavo E vi faccio vedere Com'è da accesa Inoltre ragazzi L'altra particolarità È che il tastierino numerico Possiamo metterlo Sì sulla destra Ma possiamo metterlo In questa tastiera Anche sulla sinistra Sledandolo nello stesso Identico modo Così in base alle nostre Comunque esigenze Possiamo appunto switcharlo O destra O sinistra E ragazzi Ecco qua La nostra Claymore 2 Accesa Ovviamente ragazzi La sto utilizzando Wireless Perché questa tastiera La potete utilizzare Sia cablata Che wireless Ovviamente io la utilizzo Wireless Perché la preferisco Nettamente Ragazzi Cioè i colori Sono fuori di testa Qui abbiamo gli switch ottici Molto 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 Belli Si sente veramente Che i tasti Non appena li clicchi Proprio vanno giù Che è una bellezza Cioè ragazzi Staticamente È veramente fuori di testa Dunque ragazzi Che noi decidiamo Di utilizzare la tastiera Wireless Wireless O cablata Questo non comporta Nessuna differenza Perché comunque La risposta è Ultraveloce Di appunto Un millisecondo Sia appunto In modalità cablata Che wireless A 2,4 GHz E questa è una cosa Super buona Specialmente per noi Che appunto giochiamo Perché la latenza Più alta è Più è un problema Ovviamente E come appunto detto Abbiamo gli interruttori Meccanici Ottici ROG RX Red In questo caso Che sono dotati Di illuminazione Centralizzata E forniscono Una pressione Di tasti Veramente ragazzi Costante E priva Di oscillazioni Con un ritardo Di rimbalzo Veramente ragazzi Pari a zero Quindi questa tastiera Da gaming Ragazzi Ma anche Non da gaming Ma soprattutto Per noi che giochiamo È veramente Fuori di testa Non vedo l'ora Di andarla a provare E queste ragazzi Sono le specifiche Della tastiera Quindi non ci resta Che passare Alla schermata successiva E andarla a provare Bene ragazzi Direi di buttarci Subito Nella ROG City Ora vi faccio vedere Meglio di cosa si tratta Ok così almeno Capite anche voi Avviamo la partita Ragazzi E vi faccio vedere Cosa andremo a fare Oggi per testare Le periferiche ROG appunto Ha creato Questa mapping creativa Per dare la possibilità Appunto di testare Farvi vedere In questo caso a voi Come appunto Funzionano Queste periferiche Come vedete ragazzi Sano appunto Dei numeri 1 ROG Fusion 2 500 ROG Delta S E numero 2 ROG Claymore 2 Questo perché appunto Noi andremo a testare In questo livello Sia le Fusion 2 Che le Delta S In questo caso Io ho le Fusion 2 Quindi intanto Iniziamo con queste Poi svicciamo Con le altre cuffie Praticamente Dovremmo riuscire a capire Con molta Molta facilità Adesso in questo caso Se faccio così Potenziato appunto Dovrei aver messo Il 7.1 Bene ragazzi Quello che dobbiamo fare È appunto Capire il suono Che noi sentiamo Dalle nostre cuffie In questo caso Le Fusion 2 500 E andare appunto Sulla piattaforma Dove appunto Sentiamo il sound In questo caso Il sound è sulla sinistra Quindi impulso E andiamo Nella piattaforma di sinistra Non siamo morti Quindi era corretto In questo caso È sulla destra Direi che il sound Si sente veramente Molto chiaro Vediamo qui Sempre sulla destra È rimasto invariato Opla Vediamo dove è adesso Sulla sinistra Quindi impulso E si va Nella zona di sinistra Sentiamo ancora Con attenzione Sempre sinistra Quindi Andiamo Su questa piattaforma Sempre sinistra ragazzi Martina non cadere adesso Al fare non fare figuracce Deve ne go Bene Siamo arrivati a destinazione Quindi in questo caso Saltiamo E il primo livello L'abbiamo fatto Quindi Si riusciva a capire Veramente Con facilità Da dove provenisse Il sound Veramente con estrema facilità Ora Potremmo effettivamente Provare Le delta S Ok Quindi facciamo un attimo Lo switch di cuffie Arrivo subito Bene ragazzi Eccomi qua Con le delta S Guardate quanto Guardate quanto Sono belle Cioè ragazzi L'effetto RGB È fenomenale È veramente troppo bello Allora adesso Dovremmo andare qua E ci dovrebbero essere Tutti i vari effetti Appunto Delle colorazioni RGB Quindi direi di Prendere prima uno Poi andiamo a prendere L'altro Andiamo su quell'altro Entriamo di qui Entriamo di lì Entriamo di là Ed entriamo di qua E ora dovrebbe essere Tutto l'effetto ragazzi RGB Come vedete Che proprio È veramente spaziale Troppo 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 bello Cioè ragazzi L'effetto RGB Comunque È delle delta Cioè È sicuramente Molto più visibile Rispetto a quello Delle fusion Ma comunque Sono due tipi di cuffie Completamente diversi Perché comunque Le fusion Sono veramente Veramente Super clean E queste qua Invece sono Veramente Tamarre Quindi Tanta 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 roba Ragazzi Come sentite L'audio È veramente Super pulito Cioè Io lo sento Veramente Super Super clean In una maniera Veramente devastante Andiamo a stare Gli zombie Ok E ci siamo ragazzi Questo era appunto Il test Per provare Le fusion 2500 E le delta S Che in entrambi i casi Comunque l'audio È veramente Fuori di testa Bene Ho rimesso le fusion Due ragazzi Così almeno Testo un po' Entrambe le cuffie Anche se adesso Stiamo andando a testare Appunto La nostra tastiera La claymore 2 Ok Come ho detto Che sia che l'ho utilizzata In maniera Wireless OSB Non cambia Assolutamente nulla Perché appunto La latenza È sempre di Un millisecondo E in questo caso Se noi riusciamo Comunque a Teneremo premuti Cioè in questo caso I tasti Che sono appunto Voast Per fare appunto Questo percorso Che è quello di Illuminare tutte le varie Bounce Quindi le piattaforme Scusatemi Praticamente Non c'è nessun tipo Di interruzione Tra un tasto e l'altro Oltre al fatto che In realtà Non serve neanche Che io li tenga premuti Perché basta che Premo leggermente Proprio tocco Leggermente Il tasto In questo caso Tipo la W Vi giuro Il tasto lo prende Con una velocità Incredibile Questo anche perché Io non ho mai avuto Una tastiera Con i switch ottici Questa è la mia Primissima tastiera Con i switch ottici E devo dire che C'è veramente C'è veramente una differenza Abissale ragazzi È nulla da dire Tanta roba Comunque vi giuro ragazzi Usarla Sento veramente Che è una piuma Cioè sto tenendo i tasti Voast In questo caso E non c'è veramente Nessun tipo di Di latenza O quant'altro Ed è proprio questa La particolarità Della tastiera Ora qui abbiamo Un percorso Con le nostre auto Che è una delle nostre Cose preferite Quindi corriamo Ragazzi Col fast charging Come non mai Primo lap Completato Passiamo al secondo Io vi giuro ragazzi Al tatto La tastiera È qualcosa di Veramente fenomenale Vi giuro Non ho mai avuto Una tastiera Con gli switch ottici Letteralmente Mai Mai una sensazione Veramente pazzesca Infatti vorrei Veramente anche provarla Direttamente appunto Nella In battle royale Perché secondo me È qualcosa di assurdo Specialmente appunto Per negli edit O nel buildare Secondo me È fuori Fuori Di testa Andiamo a copertare L'app Con tutta questa velocità Incredibile Con la nostra Lambo Attenzione Ultimo lap E dovremmo esserci Traguardo E ci siamo Bene ragazzi Siamo giunti al termine Di questo video Oggi abbiamo fatto Un unboxing Molto molto particolare Perché abbiamo unboxato Delle periferiche ragazzi Cioè Che periferiche Cioè periferiche Veramente pazzesche Di asus rog Da un lato abbiamo Le delta s Ragazzi Un audio veramente Pazzesco E il design Come potete vedere È veramente Fenomenale Poi le fusion 2 500 Anche loro Bellissime E ovviamente Non possiamo dimenticarci Della nostra carissima E amata Claymore 2 Che ovviamente Io utilizzo Wireless Perché wireless Ragazzi È tanta roba Bene ragazzi Io spero Che questo unboxing Vi sia piaciuto Io vi volevo dire Che comunque Nei prossimi mesi Usciranno Sicuramente Altri due video Molto 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 Particolari E soprattutto Nell'ultimo video Che uscirà qui sul mio canale Avrò bisogno di voi Quindi la mia community Dovrà stare appunto Con me Questo perché Io sceglierò Qualcuno di voi Che appunto Verrà a giocare con me E faremo appunto Un video insieme Inerente a qualcosa Di molto molto particolare Una modalità Che andremo a giocare Vi do un piccolo spoiler Sniper versus runners Ok Non vi dico altro Non spoilerò nient'altro Sapete solamente Che però Vi dovrò scegliere Qualcuno di voi Quindi mi raccomando Sicuramente vi ho ragionati Ragazzi Per quanto riguarda L'ultimo video Sicuramente nel mio prossimo video Quindi mi raccomando Rimanete sintonizzati Io spero che questo unboxing Vi sia piaciuto E vi ricordo ragazzi Che trovate Uno sconto del 25% Se utilizzate il codice CURATOMIS25 Appunto per quanto riguarda Queste periferiche Trovate il link Qui sotto in descrizione Ora ragazzi Però io devo andare Quindi dalla vostra Cronato in vista è tutto Noi ci becchiamo In un prossimo video Sponcate se non l'avete ancora fatto Bella a tutti ragazzi